Gli architetti sono delle persone molto importanti perché traducono da una parte un'aspirazione politica, da una parte un'aspirazione sociale, da un'altra parte un desiderio di una politica energetica e lo si traduce poi alla fine con un manufatto. L'edificio consuma molto di più, consuma molte più risorse nella sua vita che non nella sua costruzione, quindi tolto il tema della costruzione a cui bisogna fare attenzione, il vero tema è come mantenere gli edifici, quindi per me il tema dell'importanza ecologica è legata al fatto che gli edifici nel tempo consumino sempre meno e quindi riducano le necessità energetiche ambientali nella loro vita. Grazie per la visione! Più che dimenticare per imparare, delle volte è meglio proprio non imparare proprio, cioè il principio è che i principi educativi sono molto spesso forme di deseducazione, cioè uno invece che essere educato viene diseducato perché prende un'educazione sbagliata e su questo tema dell'energia purtroppo c'è molta diseducazione, cioè non si fa una politica per spiegare che il tema non è tecnico ma è un'opportunità creativa. Power to the people vuol dire che siano le persone che gestiscano la propria potenza elettrica o energetica, quindi tornare o avviare un secondo passaggio come è avvenuto sull'informazione, sull'informatica e anche sull'energia, cioè una distribuzione più democratica, più libera nella gestione delle risorse. Grazie a tutti! Grazie a tutti!